Certe imprese possono riuscire solo quando dentro di sé si ha qualcosa di speciale. E se utilizzare la parola miracolo forse eccessivo, trovare gli aggettivi più giusti che possano rendere conto della portata dell'impresa dell'Unipolsi è altrettanto complesso. Una dimostrazione di carattere mostruosa, quella palesata dai bianco-blu, nelle due sfide andate in scena nell'arco delle ultime 48 ore sul diamante di Rimini. Più spalle al muro di così non si poteva, a un passo dall'eliminazione. E invece la fortitude è ancora lì, non ne vuol sapere di abdicare, e si giocherà ora l'accesso alla finalissima nello spareggio di sabato sera, nuovamente davanti al pubblico amico del Gianni Falchi. Anche se l'andamento della serie, con quattro vittorie esterne su altrettante sfide, tutto porta fuorché a pensare che giocare in casa propria porti qualche vantaggio in più. E se non era già eliminata dopo i primi due rovesci, la fortitude non deve compiere ora l'errore di sentirsi già in finale per aver rimesso la serie in carreggiata. Gara 5 si giocherà sul filo dei nervi e sfuggirà a qualsiasi logica tecnica e di pronostico. Da libro cuore il racconto di gara 4, chiusa dopo oltre quattro ore e mezza di gioco, un'autentica maratona che ha visto la fortitudo prevalere col punteggio di 8 a 4 al decimo inning, recuperando lo svantaggio di 4 a 1 alla quarta ripresa. Tanti colpi di scena, il pareggio al sesto inning con il fuoricampo di Garcia, prima che la sfida, dominata dai lanciatori negli ultimi tre inning, trovasse il suo epilogo alla decima ripresa, con i quattro punti siglati grazie al doppio di Grimaude, alle valide di Agretti, Flores e Sambucci. Strepitosa sul monte di lancio la prestazione di Corradini, capace di imbrigliare le mazze dei pirati e portare gara 4 al decisivo prolungamento extra. Adesso tutto su gara 5, consapevoli di dover resettare tutto ciò che di buono e meno buono si è visto negli ultimi sei giorni. Condizione indispensabile per poter continuare a sognare l'accesso a una finalissima, che sembrava ormai lontana e che invece è ancora lì a portata di mano dell'orgoglioso gruppo guidato dagli Lefrignani.